Musica Con gli amici fotoamatori gioiesi andiamo alla scoperta dei paesi della Calabria e oggi siamo a Severia Mannelli che queste uscite ci permettono di scoprire piccoli gioielli della Calabria che spesso sono sottovalutati o che comunque non hanno la visibilità che meritano come questo paese che ci ha permesso di vedere sia aspetti paesaggistici e naturali che nelle nostre foto vengono rappresentati nel migliore dei modi ma anche scorci urbani e anche della popolazione del luogo che ci permette di sentirci appartenenti alla nostra terra. Grazie